ciao a tutti ragazzi benvenuti su questo io sono fabix39 e oggi si va si fa un altro casseggio su dove è qui l'altra volta abbiamo fatto sulla torre ma oggi si va su avamposto alla torno bene raga andiamo scusate devo fare una cosa bene raga guardate buia buio e devi fare anche la cosa qui lì c'è l'arena lì c'è l'arena di tuo mio amico c'è un'arena potremmo venire qui come come pelasone ben bene bene polizia io non ho fatto niente scusate credo che andrò a potenziarmi lì c'è Questo è Atollo, guardiano, sei lontano da casa. Non so, non so. Stiamo cercando un cat dei lupi chiamato Scott. Non so chi è. No, grazie. Buona fortuna da fuori. Abbiamo ancora molto da fare. Bene. Questo video è cortissimo, mi dispiace perché non c'è niente in Atollo. Quindi questo video è finito qui. Mettete tanti pollici in su, commentate e condividete. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.